Buonasera, su questo canale troverete ogni domenica alle 19 un'intervista. Interviste diverse, a persone diverse, professionisti diversi. Medici, biologi, geologi, vulcanologi, professori, psicoterapeuti, artisti, cantautrici, maestri pupari. Ma c'è una caratteristica che li accomunerà tutti quanti, ovvero mettersi in dubbio sulla realtà, farsi domande sulla realtà. Ebbene, ho fatto queste interviste proprio a queste persone perché ne avevo il piacere, proprio perché erano loro, oltre ai professionisti che rappresentano. Non sono un giornalista, lo dico subito, e mi scuso, con i professionisti del settore sicuramente si vedranno errori, dettagli un po' così da dilettante. Ma spero di potervi trasmettere un po' della bellezza e del piacere che ho provato a intervistare ognuno di loro.